Fino al 24 dicembre, come ogni anno, l'Hotel Castello all'Aquila riserva uno spazio per il negozio di Natale di Emergency. Si chiama Spazio Natale Emergency e il ricavato delle vendite va a finanziare le attività di Emergency. Quest'anno con i fondi raccolti da questo negozio andiamo a sostenere il programma Italia di Emergency, ovvero tutti gli ambulatori e gli ambulatori mobili che Emergency ha sul territorio italiano, in cui vengono curate gratuitamente non solo persone migranti ma anche persone italiane che non hanno la possibilità di farsi curare dal nostro sistema sanitario nazionale. Emergency ha in Italia diversi ambulatori, fa un'attività di assistenza agli sbarchi in Sicilia e ha cinque ambulatori mobili che vanno a seguire i migranti in Puglia, in Campania durante le raccolte e fa assistenza alle prostitute nella provincia di Caserta. Ci puoi trovare di tutto nel colorato e ricco negozio, dai libri di Emergency di Gino Strada a quello di Nicopiro sull'Afghanistan, dai munigli realizzati nei paesi in cui Emergency opera ha i prodotti invece dei produttori locali che li mettono a disposizione dei volontari per la vendita. Innanzitutto prodotti di produttori locali che hanno donato i loro prodotti a Emergency, quindi abbiamo i formaggi di Marronario, del caffeseficio Campofelice e molti altri, ma anche tantissimi prodotti che vengono acquistati da cooperative che producono su territori confiscati alle mafie oppure cooperative che fanno dei progetti con dei detenuti e tanti invece altri prodotti che arrivano dai paesi in cui Emergency opera, quindi abbiamo tessuti dalla Sierra Leone, prodotti artigianali dall'Afghanistan e dal Pakistan e tutti i gadget di Emergency, quindi cose loggate che aiutano anche a pubblicizzare la nostra associazione. Un modo originale e solidare per aiutare un'organizzazione importantissima sul territorio nazionale e internazionale. Noi saremmo aperti qui, ci trovate all'Hotel Castello fino al 24 dicembre, nei giorni festivi dalle 10 alle 20 e nei giorni feriali il pomeriggio dalle 17 alle 20. Noi saremmo aperti qui, ci trovate all'Hotel Castello,